è solo un suo problema questa c'è anche la volpe che pesa anche la volpe che pesa anche perché non la scastro neanche da quaio sempre quello quando riesco e dove porti giù a me in braccia? andiamo a piedi a te lo scendi o? scendo a zone scendo a zone è solo il vito che riesce qua è un po' più bravo e si beh a te a parte che poi alla fine non è che occupi alla fine ti fermi lì nel senso perché avanti è stagata la fianca ma se c'è nel posticino devi fare io grazie 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 carote Dov'è? Secondo nocciolo, buona forza Massimo, non è giusta? Era giusta come portazione È l'ABS che non ha attaccato Guarda, hai perso l'acqua Massimo Cos'è che ho perso? L'acqua, l'acqua Allora, sta filmando Sto filmando Sto un po' bagnato Andiamo Noooo Dov'è trovato il colo del gas Eh? Che vuoi trovato il colo del gas? È uguro Lo strappino ce l'hai? Lo strappino, ce l'hai attaccato? e la rotella e la coperta ti vedo lo stesso eh ti vedo lo stesso eh riesco uguale eh tutto sopra la rotella e anche quella